Che bello sta arrivando, di modo il Natale, che bello sta arrivando, fortezza con noi. Allora, Pobre Natale, sei arrivata anche a Chianalea di Scilla? Grazie a tutti, Chianalea è bellissima, è un posto magico, i bambini sono meravigliosi e spero di accontentare di realizzare i desideri di tutti. Sì, grazie, grazie per quello che ci avete regalato, per i vostri sorrisi, per le letterine, siete stati meravigliosi. Anche Babbo Natalina vi ringrazia. Ecco, Babbo Natale arriva a Chianalea di Scilla, un'associazione attiva, un'associazione che sta creando qualcosa per questo borgo. E ci stiamo riuscendo. Cerchiamo di fare del nostro meglio, ci stiamo riuscendo, però sempre puntiamo sempre in alto, cerchiamo sempre di fare il meglio. Quest'anno abbiamo innovato con nuove luci, nuovi intrattenimenti, vediamo come va, ma già sta andando molto bene. E quindi già stiamo programmando per il prossimo anno. Beh, sta andando bene. Oggi è stata anche una bella giornata, anche a livello meteorologico. Ci siamo divertiti con Babbo Natale, con la slitta, con la cassetta della posta. Ha ricevuto tantissimi bambini. Si è divertito sia Babbo Natale che i bambini stessi. Diciamo che sta andando bene. Ecco, le luminarie sono attive ormai da una settimana. È partita anche la scala del Vistio, già funzionante, con tanti astag che si stanno notando sui vari social. E niente, siamo contenti di quello che stiamo realizzando. Non resta altro che dire venire a Scilla, a Chionalea, naturalmente a visitare anche nella settimana. Adesso siamo entrati nella settimana di Natale. Adesso si entra nella settimana Clou. Certamente l'invito è questo. Noi dal 20 partiremo con i mercatini di Natalizi. Abbiamo già parecchie adesioni. Saranno momenti belli. Partiranno anche gli artisti di strada. Cosa che avverrà già dalla settimana prossima. Comunque, stiamo raccogliendo i frutti di un buon lavoro.